Ci sono novità all'istituzione Sant'Andrea di Clusone che riguardano soprattutto il settore sanitario e infermieristico. Che cosa avete deciso? Sì, direi che sono delle ottime novità, nel senso che dal primo di agosto, per cui da domani, l'istituzione Sant'Andrea avrà un nuovo direttore sanitario che è stato individuato nella figura del dottore Gidio Bonomi. Il dottore Gidio Bonomi, che come credo tutti conoscono, è stato direttore sanitario nonché primario di chirurgia dell'ospedale prima di Clusone e poi di Piario. Contestualmente ci sarà l'ingresso della nuova coordinatrice infermieristica che sarà la dottoressa Alessandra Garattini. Credo che sia stato fatto un ulteriore passo verso una continua ricerca di migliorare quello che è l'aspetto medico, infermieristico e assistenziale presso l'istituzione. Sicuramente la figura del dottor Bonomi è un sinonimo di garanzia e di professionalità. Ieri abbiamo avuto un incontro anche con tutto il personale. La notizia è stata accolta con molto entusiasmo per cui confido che anche grazie a questo entusiasmo si possa creare davvero qualcosa di molto positivo per la nostra istituzione. Altro tema è quello della trasformazione in corso in fondazione. Nei giorni scorsi abbiamo saputo di alcuni dubbi riguardanti i provvedimenti di revisione della spesa varati dal governo. Ci sono novità in questo senso? La novità che stiamo aspettando è che la cosa venga approvata dal Parlamento. Oggi deve essere approvata dal Senato per cui una volta che il maxi emendamento verrà approvato cercheremo di capire quale sarà il testo definitivo e da lì poi capiremo quale sarà il nostro futuro. Confidiamo che il provvedimento sia a favore nostro ma come di tutte le fondazioni e di tutte le società che si occupano di servizi simili ai nostri perché diversamente ciò creerebbe seri problemi nella garanzia dell'assistenza e di tutti quei servizi essenziali alla persona. Siamo riusciti in qualche modo grazie all'interessamento di alcuni parlamentari bergamaschi a presentare degli emendamenti per cercare di modificare questa norma. La cosa sembra che sia stata accettata per cui veramente confidiamo che con l'approvazione oggi in Senato il maxi emendamento ci possa dare favore in questo senso per cui procedere abbastanza velocemente con l'atto presso il notaio per cui proseguire speditamente nell'iter verso la trasformazione in fondazione.